Il generale Valeriy Zalusnyi è stato nominato ambasciatore nel Regno Unito. Come indicato dal presidente Zeneske e dal ministro degli esteri Kuleba, la nomina dimostra l'interesse di Zalusnyi per la diplomazia. Il generale è stato rimosso il mese scorso dalla carica di comandante in capo delle forze armate ucraine. In visita a Kiev, il segretario della difesa britannico Grant Shapps ha annunciato nuovi aiuti militari per l'Ucraina per un valore di circa 150 milioni di euro. Si tratta soprattutto di droni da combattimento e da ricognizione. Giovedì la videoconferenza organizzata dal governo di Parigi, che ha visto la partecipazione di 21 ministri e il segretario generale della Nato Stoltenberg, ha ulteriormente rafforzato il sostegno dei paesi dell'alleanza a Kiev. Il ministro Kuleba è tornato a chiedere munizioni e missili a lungo raggio.